Ben ritrovati a tutti, amici. Oggi abbiamo con noi Francesco Toscano, direttore di Visione TV, cofondatore di Democrazia Sovrana Popolare. Benvenuto a Ottolina TV, Francesco, e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per avermi invitato. Allora, io partirei dalle elezioni europee e lo faccio annunciando appunto che come Ottolina TV faremo una rubrica che partirà a maggio dedicata proprio alle elezioni europee in cui inviteremo i leader dei vari partiti che si presenteranno a queste elezioni per rispondere alle nostre domande e per presentare appunto la loro lista. Abbiamo però voluto fare un'eccezione con Democrazia Sovrana Popolare e la faremo appunto anche con il movimento politico di Santoro perché sono movimenti antisistema e costantemente penalizzati appunto sia mediaticamente che istituzionalmente dal mainstream e quindi abbiamo deciso appunto di fare questa puntata oggi con Francesco e partirei appunto con il chiederti questo, Francesco. È stata cambiata la legge elettorale per partecipare a queste elezioni all'ultimo, un cambiamento che appunto vi penalizza e vi chiederei appunto in particolare che cosa è successo e più in generale in che modo, se dal punto di vista istituzionale e mediatico, liste e partiti antisistemi come il vostro devono subire. Sì, è successa una cosa tutto sommato prevedibile. Noi viviamo dentro un sistema politico che non accetta un confronto reale nei contenuti. Hanno bisogno di costruire finte dicotomie, di dividersi su questioni di contorno, di dare l'impressione alla pubblica opinione che esista una sostanziale unità intorno ai temi della guerra, intorno ai temi dell'economia, ai temi della costruzione di questa Europa, demonizzando e trasformando la posizione dei partiti realmente oppositivi in posizioni ai limiti dell'eversione. E quindi se questo è, chi propone la fine della guerra in Ucraina, chi propone la fine del genocidio a Gaza, chi propone un modello economico che non sia fondato sul darwinismo sociale, ma sul rispetto, soprattutto delle categorie più deboli, diventa a gioco forza un nemico e con il nemico le regole non valgono. Se le regole non valgono, noi che avevamo l'esenzione, grazie all'accordo con la Forza Europea, per essere presenti alle elezioni di giugno, ecco, questo basta una norma rapida che taglia la testa a tutti quelli che non hanno la fortuna di godere dell'esenzione e quindi ci costringono a pochi messi dal voto a tentare una disperata raccolta firme, perché si tratta di circa 75 mila firme in tutta Italia, poi se ne devono prendere almeno un 15% in più, perché tra errori, possibilità di annullamento, ne servono verosimilmente 100 mila per stare tranquilli e dobbiamo farlo in mesetto, diventa tutto molto complicato, però noi non vogliamo regali da nessuno, non vogliamo scorciatoio, non vogliamo aggregarci a carrozzoni pittoreschi che servono per gettare ulteriore discredito sulla politica in generale e sull'area della contestazione, in particolare preferiamo combattere a mani nude, arriveremo dove possibile, però lo faremo con la dignità di chi sa di non essersi prostituito, ecco, questo in estrema sinistra. Senti, ma ci sono stati casi di ostruzionismo anche un po', nella raccolta delle firme messi comunali che in qualche modo ostacolavano le autorizzazioni, ho letto un po' di questi casi qua, l'ha riguardato anche voi? Sì, sì, certo. Mi dicono che a Roma e a Milano viene impedita all'interno dei comuni la raccolta firme in favore di democrazia sovrana popolare, non so se è solo contro di noi, forse a Roma contro tutti, non so se a Milano invece hanno una predilezione nei nostri confronti, comunque in ogni caso non consentono la raccolta delle firme all'interno degli uffici comunali, so che da altre parti pure ci sono state prese di posizione prefettizie proprio per impedire che i comuni agevolassero quello che è un rito democratico, che dovrebbe in ogni caso gratificare chi rappresenta le istituzioni, perché le istituzioni si fondono sulla partecipazione e sul consenso, se invece strumentalizzano alla partecipazione pubblica e politica, forse alla fine compiono degli atti che non aiutano il miglioramento complessivo del nostro stare insieme, però insomma ognuno risponde alla coscienza che ha, se ce l'ha, è la fortuna di non avere una coscienza che non bisogna rispondere, quindi c'è sempre un vantaggio anche nelle cose apparentemente peggiori. Senti, volevo capire una cosa, siccome appunto avevi parlato, cioè appunto sareste stato in qualche modo facilitati da questo accordo che prima era previsto, con forze europee che esentava dalla necessità di raccogliere firme, con chi era quest'accordo e più in generale, visto che si parla di elezioni europee, quali sono i gruppi, le famiglie politiche europee a cui voi vi riferite? Se andate in Europa, in qualche gruppo andate? Guarda, noi avevamo un rapporto molto, un dialogo molto avanzato con un partito slovacco molto vicino al presidente Fizco, guardavamo con interesse anche a quello che stava facendo, che sta facendo Sara Wagenknecht in Germania, anche se il rapporto più solido lo avevamo costruito con gli slovacchi. Ma in ogni caso poi a un certo punto è arrivata questa mannaia con l'eliminazione dell'esenzione europea, per cui questa strada si è improvvisamente interrotta, perché il testo della legge è chiarissimo, quindi non può dare adito a fraintendimenti. In genere non si dovrebbero fare queste cose, non si dovrebbero fare mai per colpire l'avversario politico, ma a maggior ragione a sei mesi dal voto. Poi registra anche un clima di tensione, mi dicevano i nostri giovani che ieri a Torino sono stati avvicinati, aggrediti, mentre cercavano di raccogliere le firme. Insomma, sono cose che non fanno piacere. Io non credo che questi siano mandati da qualcuno, cioè che ci sia qualcuno che gioca a fomentare estremismi fittizi, però noi non siamo nati ieri, quindi se qualcuno lo fa o pensa di farlo lo invito a smetterla subito, perché ci siamo capiti. Chiaro. No, appunto, però la domanda seguente era appunto invece nel caso entraste nel Parlamento riusciste in questa domanda. Sì, guarda, noi certamente siamo una forza che è difficilmente catalogabile, cioè io mi rendo conto che il mainstream deve ricorrere a delle etichette abusate, che non c'entrano nulla, perché fanno fatica a connotarci, ma facciamo fatica anche noi a farlo, ha una ragione molto semplice, perché noi abbiamo invertito il metodo prevalente, cioè in genere ci si chiede se si è di destra, se si è di sinistra, dopodiché ti inseriscono dentro un calderone su base preconcetta, cioè ti mettono un timbro di sinistra e qualunque cosa tu dica sei di sinistra oppure fanno esattamente il contrario. Noi abbiamo provato a fare una cosa semplice e giusta e rivoluzionaria, cioè capire prima cosa pensiamo, cioè partire dall'analisi dei fatti, elaborare una sintesi politico-programmatica senza domandarci se siamo di destra o di sinistra, anche perché sono categorie che fanno obiettivamente fatica a spiegare la realtà. Cioè Schlein è di sinistra, Meloni è di destra, ma rispetto al rapporto con l'Europa cosa divergono? Rispetto al rapporto con il genocidio a Gaza cosa differiscono? Rispetto alle politiche neoliberiste quali sono le grandi differenze tra questi due mondi apparentemente oppositivi? Cioè si tratta oramai di categorie che non servono, sto dicendo una cosa precisa, non è che non esistano i concetti di destra e di sinistra, così come storicamente elaborati e conosciuti dalla rivoluzione francese in poi, esistono sul piano filosofico, sul piano culturale, sul piano accademico, ma non c'è sempre una traduzione politica concreta e effettiva rispetto al pensiero astratto, cioè oggi siamo all'interno di una politica così impazzita un circo di personaggi ammaestrati dall'esterno, cioè da poteri che non hanno una vera formazione politica, che non riconoscono il primato della politica e non riconoscendo il primato della politica sono abituati a comandare questi pupazzetti di destra o di sinistra come se fossero cosa loro, quindi non è che non esiste la politica in sé, non esiste la destra in sé o non esiste la sinistra in sé, non esistono oggi perché sono frantumati da poteri prevalentemente di natura finanziaria, militare e mediatica che svuotano completamente la diversità della politica, questa è la nostra analisi, qui se tu mi dici voi dove andreste una volta arrivati all'Europarlamento, io oggi non ti so rispondere, ti so dire sicuramente dove non andrei, ecco, se vedessi Draghi da una parte mi metterei dalla parte assolutamente a posto. Questo anche perché appunto leggevo proprio oggi per appunto farmi due idee perché non ho seguito ad oggi molto che ad esempio la Wagenknecht non ho capito se proprio per dichiarazioni sue o insomma era un po' rumors giornalistici prospettava la creazione di un nuovo gruppo all'interno dell'Europarlamento di sinistra, dichiaratamente di sinistra ma diverso dal GUE-NGL che c'è stato fino ad oggi. Questa prospettiva ne sapete qualcosa e se ne sapete qualcosa è una prospettiva che potrebbe interessarvi? Allora, non è una cosa che abbiamo discusso è una notizia che apprendo adesso da te la trovo però interessante la trovo una notizia importante anche se alcune dichiarazioni recenti di Sara Wagenknecht insomma sono apparse come dire un po' in linea di continuità con un certo maesterno però non è questo il momento di fare le pulci ad una personalità in ogni caso importante che gode di un consenso forte e crescente. io di formazione sono un moroteo per cui se tu mi chiedi qual è la mia formazione politica io ti dico io vengo da lì quella è la mia storia e la mia cultura non ho fatica ad andare d'accordo con Marco Rizzo che è un uomo della politica e guardate che oggi la prima distinzione che andrebbe fatta non è tanto tra chi è di destra e chi è di sinistra ma di chi risponde alla politica e di chi risponde a mondi che politici non sono Marco Rizzo si può dire tutto ma è un uomo che è rimasto coerente a se stesso avrebbe potuto vendersi tanti anni fa al PD o ad altri partiti del potere per vivere serenamente dentro le stanze dorate del potere è un uomo che invece è rimasto coerente alla sua formazione alle sue idee al suo pensiero io mi trovo benissimo con lui però vi ripeto io non ho una non dico un no preconcetto nei confronti di un'ipotesi del genere ma oggi insieme a Marco partiamo da un presupposto ancora più preciso cioè partiamo dal presupposto che bisogna recuperare il primato della politica prima ancora che il recupero di una singola tradizione o di diverse tradizioni che sono nobili e luminose certamente Ale prego sì no appunto rispetto a questa cosa qua mi interessava capire una cosa perché te e anche Rizzo avete sempre parlato di democrazia sovrana popolare come del partito che riunisce il meglio della tradizione della cultura socialista e cattolica che sono un po' le due tradizioni politiche europee che erano ancora dominanti anche in Italia durante la prima repubblica e che poi di fatto più di 30 anni di dominio neoliberista come a te accennavi ha praticamente distrutto e quindi ti volevo chiedere due cose la prima appunto in che senso oggi queste due tradizioni politiche hanno un nemico comune e la seconda però era relativo anche all'appoggio che voi avete dato a Modena alla lista di Giovanardi che è appoggiato anche dal movimento indipendenza di Alemanno che invece diciamo non per categorizzare però in qualche modo far riferimento ad una tradizione ad una cultura che non è quella socialista e quella cattolica ecco quindi ti volevo chiedere se questa con Alemanno può essere un'alleanza strutturale proprio per i motivi che dicevi prima perché comunque il nemico è comune e in che modo sarebbe questa alleanza strutturale coerente con l'impostazione che avete dato al partito fino a questo momento ti voglio rispondere in termini molto precisi perché la domanda che tu mi fai è decisiva è centrale ed è utile anche per comprendere per agevolare il nostro dibattito interno partiamo da un presupposto quando noi cerchiamo di mettere insieme di costruire una nuova sintesi fondata sul recupero del pensiero del migliore pensiero cattolico del migliore pensiero socialista lo facciamo sulla base di un ragionamento preciso cioè noi diciamo che per combattere le disuguaglianze crescenti per combattere questo modello neoliberale per combattere la violenza fredda della finanza c'è bisogno di recuperare quel pensiero a favore delle classi svantaggiate c'è bisogno di recuperare il meglio della tradizione socialista da Owen in poi non si può negare che il pensiero socialista fin dagli albori è costruito intorno alla crudeltà dei ceti dominanti a partire dalla prima rivoluzione industriale abbia tirato fuori da condizioni di disumanità materiale tantissime persone non si può negare che quella storia di liberazione di emancipazione sia una storia importante e questo lo deve riconoscere lo può riconoscere anche chi viene da una tradizione diversa come me non c'è bisogno di essere marxisti o di credere nel materialismo storico per rendersi conto che le lotte in favore dei proletari schiavizzati dalla prima rivoluzione industriale sono lotte di civiltà sono lotte che meritano di essere ricordate con orgoglio quindi quello è un primo presupposto adesso di fronte ad una quarta rivoluzione industriale si verificano certo in maniera diversa la storia non si ripete mai allo stesso modo ma si verificano meccanismi in parte sovrapponibili quanti sono oggi precari che non ce la fanno accampare quante sono oggi le famiglie che non riescono a pagare le bollette quante sono lunghe le file della Caritas e quindi di fronte a questa realtà c'è chi ti dice no ma non c'è una classe dominante da combattere che ti costringe a vivere in condizione di povertà è una divinità cattiva che ha deciso che la tua vita sarà sfortunata per cui non ti organizzare per combattere contro un sistema che non esiste perché sei un complottista se tu lo immagini non esiste chi vive dentro un mondo dorato ecco per dirla alla Vittorio Go non è dell'inferno dei poveri che è fatto il paradiso dei ricchi queste sono suggestioni da complottista vai a lavorare per 3 euro l'ora e vedrai che un giorno vivrai bene e questo ti dice il sistema per combattere questo modello bisogna recuperare quella storia e lo può riconoscere chiunque non c'è bisogno di venire da lì basta solo un pizzico di buona fede contemporaneamente io credo che il pensiero cristiano cattolico in difesa della dignità della persona umana in difesa della vita in difesa dell'ontologia stessa dell'uomo sia oggi importante per respingere atmosfere transumane e robotizzanti ecco da queste due da queste due priorità nasce il tentativo mio e di Marco di creare una nuova sintesi politica onnicompressiva che risponda alla situazione presente ecco per citare Lenin l'analisi reale della situazione reale questa è in estrema sintesi quello che noi stiamo facendo poi il mainstream ci chiama rossobruni complottisti visionari sono problemi loro noi limpidamente stiamo provando a fare questo sulla base dei presupposti che vi ho appena spiegato ora voi mi domandate di Alemanno è una domanda giusta è una domanda interessante non mi nascondo che inizialmente nonostante come dire la vicinanza sui temi di stretta attualità perché anche Alemanno dice cose corrette sulla guerra anche Alemanno dice cose giuste rispetto alla giustizia sociale anche Alemanno contesta questo modello di governanza europea quindi nel merito dei problemi contingenti le nostre parole e quelle di Alemanno convergono però la storia è vero ha un peso la storia le tradizioni la cultura hanno un peso e non basta avere un approccio contingentemente affine per cancellare diciamo tradizioni metodi scuole questo è vero ora noi di fronte a questa nuova realtà abbiamo ragionato insieme insieme a Marco e anche insieme a Gianni in un primo momento è stato molto difficile anche farli parlare soprattutto Marco e Gianni perché perché obiettivamente il peso della storia si faceva sentire di fronte però all'aumento del livello di aggressività di questo sistema che demonizza in maniera furiosa il pensiero divergente avete visto che a Barufaghi si è stato impedito di collegarsi persino in collegamento persino in collegamento per avere detto cosa basta col genocidio del popolo palestinese allora di fronte a questa realtà che è una realtà dittatoriale cioè noi la dobbiamo smettere di autodefinirci sempre democratici a prescindere da quello che facciamo e bollare sempre gli altri come dittatoriale a prescindere da quello che fanno un dittatore si capisce da quello che fa non dall'etichetta che qualcuno gli mette e allora in Europa dove non si può più parlare non si può più esprimere un pensiero divergente si rischia di finire dentro le liste dei servizi segreti soltanto per aver citato il Papa io il 19 d'aprile ci sarà a Cagliari di fronte al GIP un'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione del PM perché io ho querelato le persone che mi hanno inserito in quella scheda desegretata dai servizi che ha dato poi il via al famoso scopo del Corriere tantissimo perché a noi invece questo privilegio di metterci nella lista non ce l'hanno dato e ho sempre ho sempre pensato che fosse una gravissima ingiustizia perché te sì e noi no proprio una roba terribile ecco ecco ma io infatti l'ho detto con un pizzico di perfidia ecco non so se avete notato un pizzico come dire ce l'ho io sto vanto non è che ce l'hanno tutti però tu l'hai colta e quindi mi costringe a uscire allo scopetto ecco comunque il sistema è questo e allora noi ci siamo detti ma di fronte ad una situazione che è obiettivamente antidemocratica che è obiettivamente pericolosa che diffama in maniera totalizzante quello che ritiene il nemico politico non l'avversario il nemico politico il traditore quello che vuole vendere la patria allo straniero al dittatore che viene da lontano ha senso oggi alzare dei muri con tutti quelli che come noi intravedono i germi della violenza sistemica ecco di fronte a questa domanda ci siamo detti con Marco no non ha senso e se Alemanno vuole aiutarci per fare argine in questa fase eccezionale di fronte alla dittatura vera che è quella dei poteri militari della Nato e dei poteri finanziari della BCE bene benvenga anche l'aiuto di Alemanno però sia chiaro che noi non stiamo facendo il contenitore che supera i concetti di destra e sinistra sia chiaro che noi non proponiamo in termini macchiettistici il superamento delle categorie e dei concetti che poi ci fa scadere necessariamente nel corporativismo fascista su questo vogliamo essere chiarissimi non chiari noi diciamo esistono le differenze noi non andiamo verso la proposta di una società organica dove non esistono più gli interessi di classe e di categoria noi siamo sicuri che c'è bisogno di partiti diversi che difendono interessi diversi e categorie diverse noi accettiamo un sistema paese fondato sulla pluralità degli interessi che poi trovano sbocco all'interno di diversi partiti politici che si combattono democraticamente nel rispetto delle regole però in questa fase in cui non c'è obiettivamente il pericolo fascista non c'è il pericolo del ritorno di chissà quale camicia nera pronta a marciare su Roma il problema che abbiamo adesso è che sono i cosiddetti buoni che usano i servizi per scadare i distidenti e questo è un dato non sono le camicie nere non sono le camicie brune è la dittatura dei buoni oggi che dobbiamo affrontare e dobbiamo affrontarla con tutti quelli che lo vogliono fare ma strategicamente Francesco pensi anche che sia una mossa che in qualche modo l'opinione pubblica capisce perché teoricamente il tuo discorso chiaramente ha una logica poi però si ha a che fare con un'opinione pubblica ancora in gran parte molto legata a quel tipo di categorie e quindi mi chiedo se poi dal punto di vista politico è una mossa effettivamente può essere una mossa effettivamente vincente anche in termini meramente elettorali guarda ci sono due modi di fare politica fondamentalmente cioè dal punto di vista tattico non strategico dal punto di vista tattico si può scegliere o di fare come i grillini cioè di dire le stupidaggini più totali le semplificazioni più grossolane cioè abituando la gente a ragionare in termini istintuali e cercare di prendere un consenso suggestivo oppure si può provare a parlare a chiunque cercando di spiegare la complessità è una strada più lunga è una strada più faticosa probabilmente è una strada che conduce ad una serie diciamo di sconfitte nel breve e medio termine ma è una strada più dignitosa è una strada più seria noi a Modena stiamo facendo un esperimento e capiremo anche qual è lì il livello diciamo di apprezzamento rispetto ad una proposta politica che noi cercheremo di spiegare nel dettaglio e vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di farlo qui da voi perché in genere sono molto poche le occasioni per spiegare la nostra proposta visto che il mainstream ci odia è un certo mondo del dissenso vive soltanto diciamo nella speranza di lanciare pietra alle nostre finestre più che provando a costruire qualcosa per cui noi ci troviamo spesso schiacciate a tenaglia da queste due realtà c'è l'indifferenza totale del mainstream che ci cancella e poi il continuo ringhiare diciamo di personaggi in cerca d'autore che anziché schierarsi contro il sistema passano il loro tempo a insolentire noi però siamo convinti che la nostra linea sia corretta e proveremo a spiegarla e poi il resto non dipende da noi no senti su questa cosa qua ma proprio brevissimamente siccome siamo anche insomma questa scelta qua alcune scelte diciamo di democrazia sovrana e popolare proprio in questa direzione di porre no la discriminante antifascista diciamo in secondo piano eccetera hanno comportato anche degli attriti all'interno sappiamo un pezzetto consistente del partito comunista di Rizzo è uscito tra l'altro alcuni sono anche nostri amici abbiamo fatto anche iniziative insieme insomma persone che rispettiamo conosciamo eccetera volevo capire se questa cosa qua appunto in termini interni siccome appunto una struttura fragile insomma che può godere dell'ottimo lavoro riconosciuto anche in termini di popolarità di visione tv però ovviamente come strutturazione nel territorio insomma ancora acerba e ancora tanta strada da fare mi chiedevo se questa cosa qua poi il prezzo che avete dovuto pagare per questa scelta qua non sia stato parecchio alto e come cambia magari anche ora vediamo appunto questa cosa raccolta di firme a livello di militanza magari appunto la componente che fa più capo a te non so quanto sia strutturata territorialmente magari appunto ha perso un pezzettino di militanza che in questa battaglia qui invece fino ad oggi era stata importante quindi quanto e questa cosa sento un po' di ritorno mi sa che è colpa tua e quindi insomma mi chiedevo se questa cosa quando rischia anche un po' di cambiare anche il partito da dentro nel senso di essere una cosa più verticistica che c'ha meno base più fondata appunto sul carisma personale tuo di Marco che comunque siete riconoscibili e visibili Marco perché si conosce dalle tv anche mainstream insomma è un ospite che viene chiamato eccetera te perché hai fatto questo progetto qua che c'ha una discreta visibilità molto più della nostra ad esempio insomma e ti faccio i miei complimenti che hai fatto un lavoro più che egregio quindi mi chiedevo un attimino se non c'è il rischio di una deriva un po' come si dice carismatica no? rispetto a una struttura sì sì è una domanda importante questa è anche un'accusa che viene spesso usata contro di noi allora siccome sono tante domande parto da faccio un po' di ordine tu mi domandi mi chiedi ma questo esperimento fatto a Modena ha determinato l'uscita di una parte una componente che veniva dal pc di Marco che in polemica è uscita per questo esperimento allora la risposta è no e ti dico perché perché erano già usciti loro loro sono usciti ma infatti scusa scusa Francia magari mi sono spesso male non dicevo esclusivamente per quell'episodio proprio appunto delle diciamo alcune scelte che rendono quell'episodio possibile tra virgolette no guarda non volevano DSP la realtà è questa noi dobbiamo fare un po' di cronistorie per capire come siamo arrivati qui se no non si capisce nulla questa avventura nasce dal congresso di Ancora Italia di Napoli quando nel luglio del 2022 quasi 3.000 persone vennero al nostro congresso una giornata torrida a Napoli organizzato da quello che era il mio partito Ancora Italia e lì alla presenza di Marco che era capo del PC invitato come partito alleato stipulammo questa alleanza elettorale che era il frutto di un'alleanza di coalizione cioè Italia sovrana popolare era il risultato dell'alleanza di una serie di forze che si erano trovate nel nostro congresso quindi Ancora Italia il partito comunista c'era Antonio Ingroia c'era la componente di Stefano D'Andrea e altre realtà un po' più piccole all'indomani del voto si confrontano due posizioni una è quella di chi dice continuiamo a restare una dice abbiamo fallito perché pensavano dovessimo prendere subito il 45% cioè gente che non capisce la complessità della politica non si rende conto di cosa voglia dire prendere l'1,5% in quelle condizioni con quel clima però insomma non tutti sono chiamati a essere intelligenti fortunatamente la forza di un paese si vede dal fatto che è uno stupido può parlare come un intelligente per cui una serie di idioti hanno cominciato a dire ah ma abbiamo fallito perché era normale prendere il 180% secondo questi fenomeni che hanno 7 like in rete e si convincono di essere de Gaulle quindi una parte di questi ha cominciato a sbraitare così un'altra parte un pochino più intelligente sul piano politico diceva no ma noi dobbiamo continuare a essere semplicemente un'alleanza non dobbiamo andare verso un partito organizzato e ci dobbiamo trovare soltanto nel corso delle ricorrenti tornate elettorali io e Marco non eravamo d'accordo con queste impostazioni perché la gente ha il diritto di riconoscersi non in maniera occasionale dentro un simbolo deve riconoscersi sempre a prescindere dal momento elettorale c'è la dignità di un partito si vede dal fatto che ha organismi persone uomini proposte presenza sempre non ci si può trovare solo ad ogni tornata elettorale come si fa con quei parenti che vengono dall'America durante i matrimoni o quando si sposa qualche nipote non era questa la nostra idea di politica io all'indomani del voto ho subito un'aggressione da alcuni personaggi del mio partito che erano candidati in Ancoritalia e il giorno dopo hanno mandato una lettera dicendo che io non eri scritto come se non mi conoscessero non lo conosciamo Toscano e mi hanno mandato una lettera per dire che ero decaduto in quanto non iscritto e si sono tenuti in questo modo con questa strategia i soldi e i dati degli iscritti mentre Marco ha cercato parlando con persone che tutto sommato fanno politica perché uno che ti scrive una cosa del genere per tenersi i soldi e i dati non fa politica fa un altro mestiere mentre Marco aveva a che fare con persone tutto sommato rispettabili perché riconoscevano il metodo politico e non utilizzavano metodi di altra natura lui ha provato con la forza della dialettica del convincimento a spiegare con il tempo a provare a fare maturare anche all'interno la prospettiva unitaria in alcuni non in tanti alcuni non lo hanno accettato comunque e quindi al congresso di Roma di fine gennaio hanno deciso di rompere per prendere un'altra strada che forse non conoscono neanche loro perché strade alternative è stato più un uscito morale non hanno un'idea politica alternativa avessero scelto l'idea dell'unità dei comunisti sarebbe un'idea rispettabile alternativa diversa ma questi escono solo su base oppositiva non li tiene niente insieme a parte l'avversione verso quello che proponiamo noi per cui non credo che faranno molta strada quando tu mi chiedi ma avete un problema di strutturazione territoriale siamo nati da due mesi sì lo abbiamo perché siamo nati da due mesi però abbiamo quasi 4 mila iscritti veri in pochi mesi stiamo tentando una raccolta firme disperata e difficile proprio perché abbiamo uomini magari non ce la faremo comunque perché sono tantissimi ma ci possiamo pensare di provare proprio perché siamo un partito vero militante su quello che poi tu mi chiedi rispetto all'approccio carismatico io voglio dire una cosa molto chiara il fallimento dei movimenti oppositivi è dal basso dipende proprio da un certo infantilismo come dire congenito cioè loro scambiano il concetto di confusione di caos con il concetto di democrazia cioè secondo tanti che vengono da questo che sono ossessionati dall'idea di una disciplina interna di partito prima di per decidere se dobbiamo prendere le pizze rosse o bianche bisogna fare un referendum e allora quello va all'opposizione quello vota per la pizza con i carciofi e alla fine uno può decidere e le pizze si sono fatte fredde nel frattempo la democrazia non funziona così la democrazia anche interna ai partiti significa che esiste una classe dirigente legittimata dal voto degli iscritti che deve essere messa in condizione di scegliere e valutata alla fine di un percorso dagli stessi che hanno diritto ad eleggere e legittimare un'eventuale nuova classe dirigente ma non si può andare contemporaneamente da una parte e dall'altra non si può contemporaneamente fare A e B non si può contemporaneamente allearsi con Draghi e con chi sta contro Draghi quella non è democrazia quella è confusione quello è paralisi quello è immobilismo io e Marco esercitiamo una leadership perché abbiamo un popolo che apprezza la sintesi che abbiamo proposto quando tra tre anni ci sarà un nuovo congresso ci giudicheranno gli iscritti militanti ma democrazia non significa paralizzare le scelte di una classe dirigente legittimata dal voto sulla base del fatto che non tutti e quattromila sono sempre d'accordo con tutte le possibili scelte che abbiamo di fronte questa è alla base del fallimento endemico del mondo del dissenso questo non capire che democrazia e confusione sono due concetti diversi chiarissimo Ale ah sì io tornando tornando alle diciamo alle questioni delle vostre posizioni politiche eh voglio fare riferimento appunto poi a quel sovrana che voi avete nel simbolo che si rifà anche eh immagino alla alla necessaria lotto riconquistata indipendenza dell'Italia dall'impero americano ehm e visto che appunto poi diciamo in questi anni noi stiamo vedendo ancora più concretamente i danni che questo impero sta facendo in Medio Oriente in Ucraina eccetera eccetera ti volevo chiedere però eh rispetto alle prossime elezioni americane se in qualche modo con la rielezione di Trump la politica estera americana cambierebbe in qualche modo eh se dalla vostra diciamo prospettiva preferireste uno tra Trump e Biden in particolare o se è semplicemente un conflitto per lo più mediatico e poi per lo più appunto la politica estera americana rimarrebbe pressoché pressoché invariata allora anche qui eh la realtà è complessa e merita risposte complesse noi abbiamo un nemico irriducibile sistemico e poi ne abbiamo alcuni in potenza che possono essere nostri compagni per un pezzo di strada per diventare poi invece nemici risoluti una volta abbattuto il nemico principale eh si possono fare tanti casi dal rapporto dei non so dei giacobini con i girondini cioè si si può trovare dei mescevichi con i bolshevichi se ne possono fare tanti di casi noi possiamo avere degli interlocutori tattici adesso che come noi individuano un problema principale e quindi fare massa insieme a loro per colpire e disarticolare il nemico principale mettendo però nel conto che una volta abbattuto il nemico principale si potrebbero aprire ostilità interne con quelli che fino al giorno prima erano a fianco a noi nel nome di una battaglia che ci accomuna non so se sono stato chiaro Donald Trump è chiaro che non è un uomo che propone una visione del mondo della vita della geopolitica sovrapponibile a quella che propone la democrazia sovrana popolare per mille ragioni tanto sulla questione israelo-palestinese abbiamo posizioni antitetiche il liberismo di Trump sicuramente non si concilia con il nostro keynesismo su altre cose però non possiamo non riconoscere come un'eventuale vittoria di Donald Trump nel cuore dell'impero finirebbe con il disarticolare le strutture globaliste che oggi sembrano inattaccabili cioè il nostro problema principale oggi è vedere cadere morire le strutture serventi rispetto alla globalizzazione morente questo è il dato di partenza la Nato l'Unione Europea l'OMS non hanno una forza interna hanno forza nel momento in cui sono rami dello stesso tronco globalista e il tronco globalista vive del recepimento di una filosofia precisa che è l'unipolarismo così come inteso dalla dottrina americana così come spiegato da Brezischi in libri come la grande scacchiera quindi noi dobbiamo colpire il cuore dell'impero per vedere cadere le strutture serventi fare una lotta all'Unione Europea senza concepire la fine della globalizzazione americano-centric che non ha senso perché tu colpisci un effetto non colpisci la causa tu tagli la coda alla lucertura e la coda ricresce perché il cuore pulsante dell'impero del male resta vivo e ricostruirà nuovi elementi serventi quindi l'obiettivo prioritario e primario di chi ragione in termini politici è colpire al cuore il sistema e colpire al cuore il sistema significa disarticolare il centro del potere che sono gli Stati Uniti d'America ora io domando a voi quale elemento di caos e di confusione potrebbe mandare in tilt quel sistema di potere tra Biden e Trump secondo me entrambi e allora ci siamo capiti e allora ci siamo capiti sì no questo diciamo è un pochino una cosa l'ultima l'unica volta che ci siamo visti con Francesco era una all'Alterfest tra l'altro ci torniamo anche non so se ci sei anche te per una preview dell'Alterfest a giugno mi hanno chiamato l'altro giorno per parlare proprio di geopolitica di scenari geopolitici dove appunto rispetto a che vedere con questa riflessione su Trump ci siamo trovati sul palco io mi sono incazzato proprio come una biscia perché ci siamo trovati sul palco con altri relatori che appunto sostanzialmente partendo dalle polemiche sul covid hanno individuato nella Cina proprio la dittatura terribile che proprio diciamo era quella che anticipava cosa saremmo diventati noi secondo questo processo di appunto di distopico di controllo totale mi chiedo un attimo io in quell'occasione ovviamente mi incazzai come una iena e disse perché si parlava anche si può trovare una convergenza e dice se no io con chi nel senso tra gli Stati Uniti e la Cina sta con gli Stati Uniti ovviamente io non c'ho niente a che vedere e non c'ho niente a che fare qual è la vostra posizione come vedete voi la Cina e come vedete voi Trump rispetto a questa cosa qua perché insomma sulla questione cinese Trump ha avviato la guerra commerciale che tuttora va avanti on steroids diciamo guarda noi dobbiamo capirci su questo alcuni non si rendono conto che difendere le posizioni di una nazione piuttosto che di un'altra non significa aderire al modello che quella nazione autonomamente si è data se io sono con l'Iran oggi contro Israele non è che domani voglio la teocrazia in Italia o voglio essere comandato dalla Yatollah che mi costringe a fare tre giorni di galera se magari chiuso con voi non so vado su qualche sito un po' più piccante ecco non è che non voglio questo non so se è chiaro io rispetto il modello cinese la Cina è quello che è perché è il risultato di una storia millenaria che è la loro storia e non cercano di imporre la loro storia a me né io ho intenzione di andare lì a esportare le bellezze della democrazia liberal progressista è il loro modello perché le civiltà esistono le diverse culture esistono non esiste una sola civiltà avanzata che ha il compito storico di civilizzare tutti gli altri barbari questa stupidaggine è alla base della violenza immonda tipica dei neocon che da un trentennio insanguinano il mondo ed è fondamentalmente un presupposto razzista miserabile da respingere con la massima chiarezza e la massima forza per cui i cinesi si costruiscano il loro modello sociale politico economico secondo quella che è la loro idea di vita la loro idea di società la loro idea di uomo la loro idea di progresso non sono affari miei andare lì a spiegare a loro come devono campare né ho la pretesa di farlo detto questo la Cina non mi pare che abbia nessuna base da nessuna militare da nessuna parte ecco non mi pare una potenza aggressiva non mi sembra che Xi Jinping passi il tempo a minacciare Tizio Caio rispetto cavalcando strumentalizzando dichiarazioni altrui mi sembrano sul piano esterno una forza che cerca diciamo l'armonia che prova che ragiona secondo termini diciamo di equilibrio complessivo può piacere o no ma non sono una minaccia per noi non sono un pericolo per noi non minacciano nessuno non mi pare che vogliono dichiarare guerra a nessuno mi sembrano una forza tutto sommato che si pone nel panorama geopolitico complessivo come dialogante per usare un termine morbido ma si può dire lo stesso degli esaltati occidentali che chiedono sempre sangue bombe guerre stermini che chiamano i genocidi opere di pacificazione di contrasto alla barbarie si può paragonare sul piano internazionale sul piano dei rapporti di forza complessivi il metodo degli occidentali con quello dei cinesi secondo me no secondo me no questo significa volere in Italia il sistema cinese di controllo cinese no se a loro piace stare lì a Pechino ad avere una lucina negli occhi che poi li scannerizza divertitevi voi io loro spingo quel modello non mi piace lo combatterò se qualcuno lo dovesse proporre qui ma questo non mi porta ad essere così strabico in malafete da non riconoscere che il loro modello di controllo sociale interno che magari è dettato da ragioni che noi italiani fatichiamo a concepire perché loro sono un miliardo e mezzo e noi siamo molti di meno non significhi non riconoscere che sul piano internazionale si pongono in maniera più sensata cioè noi dobbiamo smetterla di pensare che esista il buono assoluto e il cattivo assoluto esistono società che esprimono eccellenze secondo alcuni punti di vista errori secondo altri limiti in alcuni ambiti eccellenze in altri ma noi lo dobbiamo uscire dalla logica del nemico perenne e dell'amico perenne esistono contingentemente nazioni con le quali si possono fare battaglie sotto un certo punto di vista la Cina e la Russia lo sono certamente per la fine del dominio unipolare del mondo sono alleati sostanziali indispensabili per cercare di rompere 30 anni di dominio americano ma anche qui io voglio precisare una cosa io non voglio la fine del dominio americano perché sono anti americano sai tu sei anti americano hai un pregiudizio un preconcetto io sono arrivato a questa conclusione sulla base di un'analisi fattuale voi avete esercitato un comando assoluto negli ultimi 30 anni e il mondo che avete costruito oggi è migliore o peggiore rispetto a quello che avete preso all'indomani della caduta del muro di Berlino è un mondo pacificato è un mondo più sereno è un mondo più ricco è un mondo più umano o è un mondo più violento più tragico più corrotto più falso più ipocrita più povero più diseguale e quindi io dico molto semplicemente agli americani siccome non siete stati in grado di governare il mondo che avete ricevuto in donna ve ne dovete andare perché non lo sapete fare non perché siete americani se eravate congolesi ero uguale se eravate del Perù ero uguali il fatto che siete americani per me è un accessorio semi-irrilevante avete avuto l'onore e l'onore di governare il pianeta in maniera assoluta per 30 anni avete sbagliato tutto via proprio per il principio di responsabilità chiaro senti un'altra cosa un po' che forse a volte appunto quando riesco a seguire un po' i vostri contenuti a volte sono posizioni molto diverse nel senso mettiamo insieme covid e clima nel senso mi è sembrato in qualche modo che oltre diciamo a condividere con voi noi come Ottolina in generale diciamo io in particolare è la critica diciamo alla strumentalizzazione diciamo dei dati scientifici fatta per portare avanti interessi specifici di oligarchie eccetera in un caso e nell'altro no? di Pfizer come di BlackRock che fa i fondi ESG però mi sembrava ci fosse anche un po' una critica che non capivo bene poi dove va a parare è un po' quasi antimoderna tra virgolette alla comunità scientifica in quanto tale cioè ad esempio io nella mia ignoranza ecco ritengo che la comunità scientifica si sia espressa con una certa unanimità con pochissime eccezioni che non sono nemmeno troppo organiche o di pesa all'interno di quel mondo ad esempio sui riscaldamenti climatici c'è la matrice antropica dei riscaldamenti climatici non riesco a capire c'è un ritorno non so se se è colpa nostra se si può se la regia mi può aiutare e ora non lo sento più insomma questo volevo capire un attimo se la vostra critica è alla finanza che si approfitta di tutto quello che succede distorce tutto quello che succede o la critica è proprio alla comunità scientifica in quanto comunità scientifica e quindi all'impossibilità che esista una comunità scientifica che con altissimo livello diciamo di consenso si esprime in una cosa in particolare che diventa diciamo un fatto assodato condiviso una base di realtà condivisa allora guarda anche qui partiamo da un presupposto io contesto l'utilizzo della paura e dell'emergenza come strumento di gestione delle masse e questo è un metodo oramai conosciuto e abusato dal potere sono entrati dentro questo loop lo fanno bene devo dire sono bravi nel male non sono cretini anche nell'essere malvagio ci vuole una certa sapienza che è l'ultimo cretino può prendere in giro tutti così tormentandoli attraverso una gestione capillare della comunicazione della suggestione figlia della comunicazione per cui loro che fanno loro di volta in volta tirano fuori dal cappello del mago un mostro prima avevamo l'austerità sono partiti la oddio il debito pubblico mi sento sulle spalle il debito pubblico per questo sono gobbo oddio i mercati ci guardano lo spread si impenna siamo al 3000% domani ogni bambino che nasce già deve firmare una cambiale mio figlio di tre mesi ogni giorno che passa a 3000 dollari in più domani fa un anno quindi a 300.000 dollari e tutti i cretini poveracci che tu naturalmente sei un bambino e gli dici guarda che viene il lupo e ti mangia poveraccio ha un anno dice il lupo non esiste il lupo non vive a Reggio Calabice non lo sa quindi si mette paura e dorme e lo stesso metodo lo utilizzano le oligarchie con il popolo bambinone gli dicono oddio guarda che c'è il debito pubblico che ti morde quella si spaventa paga e sta zitto è un'opera di redistribuzione dal basso verso l'alto cioè è un progetto di impoverimento dei poveri in favore dei ricchi è una lotta di classe al contrario però il bambinone non lo sa perché nessuno glielo spiega e perché si fida di chi gli parte quindi adesso nessuno dice che il debito pubblico di oggi è più alto di quello che avevamo quando c'era Monti ma ora non serve più perché il bambino dorme tranquillo giocherella con gli aquiloni e non serve più poi si sono sono usciti con la paura pandemica anche lì la comunità scientifica era unanime pure oggi parla Burioni carta vetrata come si chiama carta bollata carta bellotta quello di Gimbe quello che c'ha nome strano pure oggi parlava dice che stiamo la scienza è unanime nel riconoscere il grande successo di questa operazione a tutela della salute pubblica ma il problema non è il problema è cos'è la comunità scientifica cioè se la comunità scientifica la decide il padrone del denaro cioè se decide Elkan che ha l'autorevolezza per essere parte della comunità scientifica o no io immagino che la comunità scientifica diciamo dirà sempre alcune cose a prescindere dalla qualità vera delle personalità che discutono cioè se i finanziamenti alla comunità scientifica vanno dai padroni del denaro e se i padroni del denaro finanziano delle università piuttosto che altre finanziano delle riviste piuttosto che altre io immagino che la comunità scientifica finirà con il ripetere le parole che chi paga gradisce detto questo sul riscaldamento globale io guarda io leggo mi convincono le analisi di Franco Prodi mi convincono le analisi di Franco Battaglia ho intervistato tanti professori che mi hanno spiegato diciamo come nel corso dei secoli il clima abbia sempre subito delle variazioni importanti che sono il risultato di processi solari dopodiché per carità io non penso di avere di essere per forza dalla parte del giusto sono pronto a ricredermi sono pronto a ragionare però quando mi accorgo diciamo di come vengono utilizzate certe emergenze vero presunte mi rendo conto che è più corretto stare dall'altra parte cioè quando Repubblica passa tutto luglio a fare titoli come tempesta di caldo che sembra Batantuono oppure 890 gradi a Caltanissetta si squaglia turista inglese insieme al gelato in via Condotti cioè quando fanno così ti rendi conto quando poi invece magari non vedono cose molto più evidenti che non ci vorrebbe un geologo per capire che stanno facendo un genocidio a Gaza e non lo vedono che sta perdendo l'Ucraina e non lo vedono però vedono il turista che si squaglia col gelato in mano e fanno titoli assurdi allora ti viene il dubbio che abbiano un interesse a puntare l'attenzione della gente intorno ad un problema e io ho imparato che quando quelli stanno da quella parte in genere si indovina sempre stando dall'altra ecco Ale no 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 appunto io non ho altre domande particolari su questo appunto io tendevo sempre pensato che comunque la comunità scientifica per quanto poi il capitale e le oligarchie e gli stati anche tendano ad appropriarsene però abbia anche degli anticorpi interni nel senso che poi il metodo scientifico è una conquista da un metodo di indagine che ad un certo punto oppone resistenza infatti infatti poi magari di questa facciamo una volta una cosa perché su questo non siamo molto d'accordo credo facciamo una volta un'altra puntata proprio rissa però diciamo hai messo insieme due cose molto diverse non è vero che esiste un'unanimità della comunità scientifica sugli effetti benefici delle campagne pandemiche assolutamente è una bugia anche perché le campagne pandemiche sono state tutte diverse bisogna capire cosa vuol dire successo quindi ovviamente è una cosa che non ha non ha senso e di per sé però mentre invece esiste un consenso di oltre il 98% di tutti i climatologi che sono decine di migliaia sul fatto che il riscaldamento climatico c'è è di matrice antropica è dovuta alla CO2 e poi questa è una teoria del capitalismo cioè nel senso questo è un aspetto fondamentale anche perché appunto combattere a mio avviso combattere il sistema neoliberale agemonia americana e tutto quello che sappiamo il sistema fondato sullo sfruttamento della natura fa parte appunto anche delle vostre battaglie politiche e il riscaldamento climatico o comunque la distruzione parte in distruzione dell'ambiente fa parte di una delle aporie di questo sistema che conviene combattere che poi il sistema cerchi di appropriarsi di questi temi per in qualche modo portarli dalla propria parte e poter in qualche modo far profitto anche sulle politiche green eccetera eccetera questa è una verità e poi soprattutto fare greenwashing e poi le politiche green non le fanno le annunciano ci fanno pagare di tutto ma poi questa transizione ecologica non c'è e BlackRock continua a dare più soldi al petrolio che alle fonti rinnovabili chiaro chiaro comunque io rispetto la vostra posizione non bisogna per forza avere diciamo posizioni completamente convergenti su tutto ecco voi siete convinti del fatto che il sistema abbia mentito sull'austerite abbia mentito sulla sulla questione pandemica ma dica la verità sulla questione della necessità di cambiare il nostro modello di produzione per salvaguardare un ambiente che altrimenti finirà diciamo per essere distrutto dall'opera dell'uomo io sono poco persuaso per una serie di ragioni da questo ragionamento però vi ripeto io non vivo di dogmi approfittare leggerò cercherò di capire di più magari io finora ho letto una serie di analisi vi ho citato ad esempio una persona che stimo molto che è Franco Prodi che secondo me anche con una certa forza argomentativa ha spiegato come non ci sia prova di un nesso di causalità diretto tra l'opera dell'uomo e l'aumento delle temperature mi sembra anche difficile immaginare che se anche domani tutti gli europei tornassero a vivere magari nelle caverne senza emettere nulla di CO2 con la Cina con l'India con l'Africa che continuano a fare quello che gli pare non credo che cambierebbe molto nell'equilibrio complessivo però se qualcuno pensa che magari facendo così solo in Italia il mondo finirà con il vivere meglio lo faccia buon per lui si salverà la coscienza almeno se uno vuole andare in giro con le pelli d'animali convinto di salvare il mondo poi ci porterebbe tanto per me appunto gli esempi che hai fatto non sono tra loro congruenti non è vero non c'è mai stato anzi è stata sempre minoritaria nell'accademia l'idea che l'austerity fosse una realtà scientifica a parte che poi bisogna distinguere tra realtà appunto tra scienze dure e scienze invece sociali che hanno dei metodi scientifici però ovviamente di per sé costituzionalmente costituzionalmente è detto male intrinsecamente diciamo hanno dinamiche diverse quindi però mettere sullo stesso piano il consenso sull'austerità io ho detto solo l'utilizzo del metodo giornalistico no su questo no infatti ti volevo il metodo giornalistico per suscitare paure che impongono cambiamenti su questo io noto una continuità no 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 su questo assolutamente è chiaro che i mostri sono diversi c'è il mostro con le corna c'è il mostro invece che fa una canzoncina melodiosa c'è il mostro che scappa c'è quello che ti fa la pernacchia i mostri sono tutti diversi però il mangiafuoco che sta dietro la tenda che muove i burattini secondo me è animato dallo stesso metodo ecco questo è il senso no no su questo su questo penso possiamo concorrere però la discussione è sempre utile ecco io non penso che nessuno di voi mi metterà in un listone diciamo in una lista nera no non ce l'abbiamo ancora non abbiamo non abbiamo ancora gli strumenti il problema non è avere idee diverse cioè se ora quando chiudiamo mi diceva visto Toscano questo non crede ma diamogli una bella nota ai servizi così lo seguo ecco il problema sarebbe solo questo noi mandiamo direttamente nel gulag Francesco noi mandiamo direttamente nel gulag cioè il problema si può discutere da persone per bene senza insultarsi o minacciarsi ecco anche in un mondo così strano la normalità è diventata l'eccezione Ale concludi no 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 io cioè le questioni su cui discutere sarebbero tante anche per dire sulla questione del femminismo dei diritti sarebbero diciamo tante un'altra volta un'altra volta avevamo detto però farei un'altra volta ragazzi chiamatemi quando volete io qua con voi mi trovo bene per cui se mi rinvitate ci vi rivengo va bene anzi vi giro restituisco l'invito quando e se vi andrà di venire ospite volentieri volentieri assolutamente certo grazie mille grazie a voi buon lavoro buon lavoro in bocca al lupo per la raccolta delle firme e ci vediamo ad una prossima puntata andate sul sito dovefirmare.it e dateci una mano grazie grazie mille a te ciao a tutti ciao a tutti